e benvenuti a questo corso per principianti e perplessi. Il titolo del corso l'aveva scelto Don Giuliano in modo tale che fosse chiaramente visibile a tutti quello che voleva essere il target di riferimento, quindi lavorare su chi conosce l'arte ma delle remore nei confronti del contemporaneo, chi è curioso nei confronti dell'arte. Partendo da questo abbiamo scelto forse i sei peggiori dell'arte contemporanea, anche se viene un po' da sorridere a pensare che si festeggiano i cent'anni della ruota di bicicletta di Duchamp, quindi è contemporaneo però direi che è abbastanza anzianotto. L'idea qual è? È quella di scegliere gli artisti nei confronti dei quali ci sono state delle chiusure molto forti. È vero che gli interventi sono fruibili anche singolarmente ma nell'ambito del corso, proprio per delle ragioni didattiche anche per costruire un po' una conoscenza sull'argomento verranno spesso fatti anche rimandi, allusioni a quello che si è discusso negli incontri precedenti. Lavoreremo quindi sull'orgoglio e sul pregiudizio, su quell'abitudine che magari qualcuno ha nei confronti del cibo ma nei confronti dell'arte risulta ancora più deleteria, che è la propensione verso ciò che si conosce e il rifiuto verso ciò che ci mette sotto scacco, che ci mette nella condizione nella condizione di dover cercare di far fatica per capire. Oggi ci dedichiamo a Marcel Duchamp che è forse uno dei padri dell'arte contemporanea e partiamo con una frase che è una frase di Baudelaire che di Duchamp non fu certo contemporaneo ma che riuscì ad anticipare molte delle convinzioni anche estetiche che sarebbero maturate dopo e Baudelaire scrisse il pubblico rispetto al genio è un orologio che rimane indietro e non solo nell'epoca contemporanea, se si pensa ai funerali di Mozart a cui non partecipò quasi nessuno erano in tre, si vede che insomma ci sono anche dei precedenti ottimi. L'argomento quindi è legato in tutti questi incontri a questa forbice che si è aperta in maniera così forte distaccando il pubblico dall'arte contemporanea e con un fuoco particolare sul rapporto tra le cose e lo sguardo, tra come guardiamo gli oggetti, come guardiamo le opere, come l'artista ha guardato gli oggetti e come i vari tipi di pubblico li hanno piano piano osservati. Teniamo presente che Duchamp nasce nell'87, l'anno prima c'è la mostra che inaugura il post impressionismo e muore nel 68. Picasso nasce nell'81 e muore nel 73. Quindi la vita di Picasso comprende la vita di Duchamp ma noi non siamo qua a spiegare Picasso che non è nel gruppo di questi sei enfant terribles ma siamo qua a discutere di Duchamp. E se ci pensiamo questo accade perché le immagini di Picasso, delle opere d'arte di Picasso, sono molto più riprodotte delle immagini delle opere di Duchamp. E la ragione, e lo capiremo anche nel corso di questo intervento che non ha assolutamente la pretesa di trattare tutto Duchamp ma alcune opere cardine della sua poetica, forse la ragione è che Duchamp non ha creato delle opere. Ha creato una nuova estetica, un nuovo linguaggio sull'arte e essendo un linguaggio, il linguaggio non è riproducibile molto spesso in un poster. Parliamo del tempo, l'orologio che rimane indietro questo pubblico che non ha assolutamente lo stesso tempo di Duchamp e vediamo che invece Duchamp è un artista che i tempi li ha precorsi. È andato molto veloce, è stato un artista voracissimo che nel momento in cui è nato e ha iniziato a crescere artisticamente ha subito capito quali erano i movimenti più importanti, si è confrontato con questi movimenti e nel giro di pochissimo li ha proprio divorati, fagocitati e superati, il che vuol dire che li ha compresi. Il primo esempio lo possiamo vedere con quest'opera, Paesaggio a Blainville, un'opera pochissimo nota. Siamo nel 1902, Duchamp a 15 anni. Duchamp a 15 anni si trova in un paese che è un po' a nord di Parigi e si rende conto che gli impressionisti sono il movimento dominante. Impressionisti, tutto sommato anche loro dileggiati dal pubblico quando avevano fatto la mostra a nadar negli anni 70, adesso ormai sono diventate delle specie di mostri sacri, quasi intoccabili. Paesaggio a Blainville ci dimostra che il confronto è assolutamente con Monet. Conosce la tecnica, comprende l'argomento, cioè il confronto col paesaggio, si impadronisce dell'attenzione alla luce e dimostra di avere già delle competenze. Tutti i fratelli saranno coinvolti in questa passione per l'arte. Arriva a Parigi, l'opera successiva è Il nudo con le calze nere, quindi questa figura femminile in un interno con una pittura che è completamente diversa. Pittura completamente diversa che è già all'interno del post impressionismo e l'ha anche superato, tornano i contorni neri, tornano queste pennellate molto più violente e il confronto in questo caso è con Matisse. Quindi Duchamp non si confronta mai con chi c'è prima, si confronta con i suoi contemporanei perché vuole essere proprio uomo del suo tempo ed entrare in questa riflessione su quello che è l'arte. Sempre nello stesso hanno il ritratto del padre. È ovvio, anche se forse non avessi messo l'altra opera di fianco, che il riferimento è Cézanne, che fa una pittura, se ci pensate, molto più complessa di quella dei Fauve, molto più complessa di quella dei post impressionisti, perché Cézanne all'interno del suo stile dice che non mi interessa il tipo di natura che viene dipinta dagli impressionisti, l'attimo fuggente, l'impressione che tocca e che colpisce la retina, ma mi interessa il sistema di relazioni tra oggetti nello spazio, il sistema di proporzioni, una specie di insieme di regole matematiche che stanno alla base della natura e che la rendono leggibile. E Duchamp è uno degli artisti cardine per molte riflessioni nel Novecento, anche lui, scusate Duchamp Cézanne, anche lui non molto amato dalla critica, eppure amato da artisti anche molto diversi da lui, come Bernard. Ci sarà una grande antologica di Cézanne nel 1906 che influenzerà profondamente Picasso, perché Cézanne è l'anello che unisce Picasso alla visione dell'arte e quindi Duchamp ci dimostra ancora una volta di aver assimilato, compreso e già in partenza superato. Cézanne, con questo ritratto di Wallard del 1889, sarà per Duchamp il ponte per passare a Picasso, proprio per questa corsa contro il tempo. E lo vediamo perché anche Picasso, come Cézanne, si confronta con il ritratto di questo mecenate artista e dal via alla grande stagione del cubismo. Cubismo, in questo caso analitico, con l'immagine ferma, immobile, questo ci serve proprio comprenderlo con attenzione, spezzettata nei vari punti di vista. Io non sono solo quello che l'occhio vede, io sono anche quello che l'occhio non vede, e Picasso rappresenta tutto ciò sulla tela. L'avevano fatto gli egizi prima di Picasso, quando rappresentano il volto di profilo e l'occhio frontale per dare un'impressione globale della figura. Senza Cézanne, Picasso non sarebbe mai arrivato a questa decisione, però le tinte di Picasso sono sempre tinte tendenti ai colori scuri, un po' quasi vicini al monocromo forte della lezione di Cézanne. Le immagini non hanno mai a che vedere con i paesaggi, ma se sono paesaggi ci devono essere delle case, ma di solito sono nature morte o figure caratterizzate dall'essere statiche. E Duchamp si confronta con Picasso e si confronta con un'opera del 1911 che è la Dulcinea, una figura femminile che lui probabilmente ha incontrato, che l'ha suggestionato e che noi vediamo replicata. È la stessa figura, non sono delle donne, non sono delle ragazze, è la stessa figura rappresentata in più posizioni dietro uno sfondo. La tavolozza, la tecnica volendo è cubista, la tavolozza però è molto più chiara. Il soggetto è diverso dai soggetti usati da Picasso e dimostra, soprattutto se noi teniamo presente le date, non perché le date siano sempre fondamentali, ma in questi cinque anni, anzi neanche cinque, se passiamo dal dieci al dodici direi, in questi due anni di Duchamp ci sono veramente tutte le basi, tutte queste specie di bombe ad orologeria che causeranno poi il nascere della sua poetica. 1911 e se noi ci pensiamo brucia in anticipo con un'opera quella che poi sarà la bruche. È molto famosa per chi comunque ha studiato storia dell'arte, quest'opera legata a questo movimento che nasce a Dresda nel 1906 dove si vedono queste cinque donne prostitute per la strada, con i profili taglienti, con questa tavolozza acida, però Kirchner viene dopo. Duchamp ci ha pensato prima. Così come, se ci pensate, la bambina che corre sul balcone, no? Di balla, che magari è un'immagine che conosciamo di più e che ci potrebbe venire in mente, dirà questa persona che si muove potrebbe un po' farci pensare alle ricerche del futurismo. Sì però, attenzione, perché Duchamp non conosce il futurismo nel 1911. La mostra dei futuristi a Parigi è del 1912. Quindi in quell'opera Duchamp ha già iniziato a smontare tutte quelle che sono le caratteristiche del cubismo, cioè la figura statica vista da più punti di vista quando però è ferma nello spazio. Invece ci interessa pensare che il 1911, perché l'anno successivo, e siamo nell'anno di massima cesura, nel 1912, inizia lo scandalo. Fino a quel momento Duchamp è stato tutto sommato accolto, monitorato, considerato assolutamente un pittore di talento, ben inserito, aveva appunto anche questi due fratelli che si occupavano di arte. Fino alla Dulcinea tutto sembrava procedere bene o male abbastanza regolarmente, anche se c'era qualche discostamento dalla corrente principale che era il cubismo. Ma nel 1912, con quest'opera, che è il nudo che scende le scale, Duchamp rompe decisamente con quella che si chiama la pittura ritimica. Che cos'è la pittura ritimica? Duchamp ce lo racconta scrivendo. Duchamp ci tiene molto a scrivere, ha anche una scrittura molto piacevole e, come tutti gli artisti dell'epoca, ha paura che le sue intenzioni siano travisate. Per cui, dove ci sono i punti caldi delle sue azioni, ci tiene a lasciare un testo. E lui dice a me interessavano le idee, non soltanto i prodotti visivi. Volevo riportare la pittura al servizio della mente. Di fatto, fino a cent'anni fa, tutta la pittura era stata letteraria o religiosa. Era stata tutta al servizio della mente. Cioè, la pittura ovviamente legata ai libri o legata alla religione è una pittura che trasmette idee, concetti. Durante il secolo scorso questa caratteristica si era persa poco a poco. Quanto più fascino sensuale offriva un quadro, quanto più era animale, tanto più era apprezzato. La pittura non dovrebbe essere solamente retinica o visiva, dovrebbe avere a che fare con la materia grigia della nostra comprensione, invece di essere puramente visiva. Per approccio retinico intendo il piacere estetico, che dipende quasi esclusivamente dalla sensibilità della retina, senza alcuna interpretazione ausiliaria. Gli ultimi cent'anni sono stati retinici, sono stati retinici persino i cubisti. I surrealisti hanno tentato di liberarsi da questo e anche i dadaisti. Io ero talmente conscio dell'aspetto retinico della pittura, che personalmente volevo trovare un altro pittore da esplorare. Chi di voi ha mai preso in mano un manuale di storia dell'arte sa che, dopo il periodo della rivoluzione francese, non ci sono più quadri religiosi. O ci sono veramente molto, molto raramente. Quindi quando Duchamp dice gli ultimi cent'anni sono stati retinici, parla proprio di questo brivido della visione. Perché gli impressionisti piacciono tanto? Perché è piacevole, perché c'è questo tripudio cromatico, perché ci sono tutte queste pennellate che ci rimandano sensazioni di luce, però non c'è un concetto, un'etica, una riflessione forte dietro le opere degli impressionisti. È completamente assente la storia. Ne parleremo nella prossima volta in un confronto, proprio lavorando su Warhol. E quindi in tutto questo Duchamp cerca di recuperare una pittura che di nuovo riapra il confronto con le idee. Perché secondo lui sono andate perdute. La colazione dei cannottieri, il bar le folie berger, le cinque donne per la strada, che comunque rappresentano cinque prostitute, sono un po' una considerazione magari sociale, ma la donna di Matisse, la danza di Matisse, tutto questo per lui non è portatore di un significato che sia più forte della piacevolezza del colore. E quindi vuole andare oltre questa patina o questa crosta. All'interno appunto di tutto questo, con quest'opera che è il nudo che scende le scale, titolo molto importante, lui che cosa fa? Salda il debito con il cubismo e lo supera. Perché? Innanzitutto quali sono i problemi che creeranno lo scandalo? I nudi non sono mai in movimento. Nella pittura il nudo è sempre stato statico. L'immagine nuda è fatta per essere ferma, contemplata, perché il nudo che si muove è scomposto, è imbarazzante, è scandaloso, non è particolarmente elegante. Quindi la figura nuda, soprattutto la figura nuda femminile, deve essere un oggetto di contemplazione. Quindi la prima grande rottura non è il movimento in sé, ma è l'unione tra il movimento e il nudo, che rompe una specie di dogma ortodosso della pittura occidentale. Il secondo problema è il fatto che questo nudo scenda le scale. Perché? Perché quest'opera doveva essere esposta a una mostra e uno dei problemi che fecero gli organizzatori della mostra è che il titolo era molto fumettistico. Noi siamo poco abituati a riflettere su che cosa possa significare anche solo un articolo, una preposizione all'interno di un titolo, ma non è il nudo che scende delle scale, o una scala. È le scale. E allora il circolo dei cubisti, che innanzitutto aveva considerato quest'opera come un affronte e un oltraggio alla loro arte. Non Picasso, ma Picasso era sempre stato fuori dal gruppo dei cubisti, ma artisti come Gleises ad esempio, e dice le scale. Quali scale? Dov'è? Come se queste scale fossero famose. Il pubblico cosa si chiederà? Chi è questa persona? Che cosa sta facendo? Quindi era proprio un appigliarsi persino ai dettagli linguistici. E l'affronto nel cubismo in che cosa sta? Nel fatto che non si ha, come nel cubismo, più punti di vista contemporaneamente, cioè l'immagine del nudo ferma vista da tante angolazioni diverse. Non si ha la rappresentazione del movimento, come si può avere nella pittura futurista, ma si ha un lavoro simile a quello che affrontava la cinematografia, cioè più punti in movimento successivi, ma in una pittura statica. Non voglio dare l'idea del movimento, ma voglio dare l'idea della sequenza. Tanti fermo immagine, quindi comunque escludo il movimento, di una figura in movimento analizzata e sezionata nel dettaglio, che si ripete su uno sfondo che invece resta fermo. Quindi non è futurismo, non è cubismo, e a questa mostra della Société desartese indipendante che doveva tenersi appunto a Parigi nel 1912, noi abbiamo, se andiamo a guardare il catalogo, al numero 111-12, New Descendants Les Caliers e un disegno. Ma, e questa è una delle caratteristiche più importanti della vita di Duchamp, la presenza all'interno del catalogo è un'assenza all'interno della mostra. E nella storia dell'arte le cose che non ci sono sono molto spesso più importanti di quelle che ci sono. L'assenza di un artista a una mostra cambia, diciamo, notevolmente le cose. Che cosa accade allora? Perché quest'opera comunque la si continua a trovare sui manuali? Fosse stata semplicemente rifiutata a una mostra e finita in un cassetto, non sarebbe diventata così famosa. Eppure, ciò che viene rifiutato a Parigi viene traghettato oltreoceano in una delle mostre più importanti, che è la mostra che si terrà all'Armory Show a New York, in America. E a questo punto ci si chiede, ma chi ha fatto il nome di Duchamp? Perché comunque anche in storia dell'arte si va avanti, non tanto per raccomandazioni, quanto comunque per Tizio conosce Caio, Tizio che è importante, dice che Caio anche lui non è male. Si interpella un artista famoso per dirgli, ma secondo te chi possiamo invitare della Francia per non fare brutta figura? E quindi nel momento in cui l'America, che è un paese giovanissimo, si mette in moto, vuole attivare un confronto con la pittura europea. Perché se ci pensate, gli artisti americani si studiano a partire dal 1900. A meno che uno proprio non sia un appassionato di storia dell'arte americana, l'America entra in dialogo con l'Europa a partire dal 1900. E l'elemento importante e fondamentale sarà questa mostra all'Armory Show. E allora è interessante vedere chi lo porta lì. Questi sono gli appunti, handwriting by Picasso, c'è scritto sopra, gli appunti di Picasso. Picasso nel 1912 prepara una lista degli artisti che lui consiglia per l'Armory Show. La calligrafia non è sempre perfetta perché lui lo scriveva con un alfabeto fonetico per far capire un po' gli americani come si pronunciava il nome francese. Per cui Duchamp, ma lo vedete, Metzinger, Gleises. Gleises è quello che non ha voluto Duchamp alla mostra. Delonais è andando avanti. Quindi già ci si interroga sui significati dell'arte. Come è possibile che un'opera d'arte considerata oltraggiosa per il cubismo, un cubismo che in mano ad artisti che non sono Picasso diventa subito un movimento molto dogmatico, come è possibile che quest'opera sia così veicolata e osservata con molta attenzione da Picasso. Sono anche, abbiamo visto bene o male, contemporanei. Non è che Picasso fosse un grande nonno nei confronti del giovane Duchamp. Ed ecco che arriviamo appunto all'Armory Show, in questa mostra che avviene l'anno dopo, nel 1913, dove ci sono tutti i nomi della contemporaneità, diciamo più che europea-francese, e sono i nomi di quegli artisti che poi saranno il bacino di formazione della generazione americana. E quindi si trova addirittura, perché gli americani le cose le avevano fatte con grande attenzione, Engre, di cui si ricorda di nuovo la fonte, che è questa figura nuda femminile stante, Delacroix, Degas, Cézanne, Renoir, Monet, Serat, Van Gogh, c'è veramente di tutto. E in mezzo a tutto questo Duchamp. E sui francobolli commemorativi della mostra all'Armory Show, l'immagine scelta è quella del nudo che scende le scale. Non è scelta perché fu un'immagine osannata, ma perché anche lì non passò sotto silenzio. Però ciò che in Francia viene silenziato, in America viene valorizzato, no? Se crea scandalo, se ci si riflette sopra, vuol dire che quest'opera farà sì che la mostra venga ricordata. E quindi nel francobollo la mettiamo. E le due persone che sono davanti a quest'opera, potrebbero, potremmo anche fotografarle tuttora nei musei d'arte contemporanea, no? Se andate alla Gare d'Orsay, non vedete le persone guardare così i dipinti degli impressionisti, no? Uno col cappello dietro che guarda perplesso e la signora che si distanza, insomma, tutti ovviamente vestiti anche, come direbbe Solà, in grazia di Dio, visto che sono in un museo. Quindi i francobolli celebrano la perplessità, la novità, anche il fatto che rispetto a tutti gli altri artisti di cui in America sapevano tutto, Duchamp spacca, rompe veramente, perché nessuno aveva idea di che cosa poteva portare questa persona di artista. E al di là di questo, la critica sarà fortissima. Ci sono... La satira prende molto in giro l'opera di Duchamp. Quindi fanno dei fumetti su il cibo che scende le scale. In questo caso è The Rude Descending Staircase, che vuol dire, diciamo così, il maleducato, insomma, un po' il cafone che scende le scale. E sopra c'è scritto Andando a vedere New York con un cubista. Quindi col fraintendimento di nuovo. Cioè Duchamp comunque è considerato affine ai cubisti perché Picasso ha fatto il suo nome. E se andiamo a vedere il setting, quindi l'ambiente in cui l'opera è stata esposta, e ve lo faccio vedere non per una certa, diciamo così, passione o curiosità documentaria, quanto perché l'ambiente delle esposizioni sarà per Duchamp un punto cruciale di riflessione, voi vedete che all'interno di questa enorme armeria dell'esercito americano voi avete una mostra tutto sommato molto convenzionale. Ricorda anche quasi un po' la Garde d'Orsay, con i nudi stanti, come dicevamo prima, perché il nudo deve essere immobile, in mezzo come sculture e intorno i dipinti. Nella parte sotto, è un vecchio ritaglio di giornale, voi vedete come era allestita il nudo. Qui c'è un'opera di Gleises e qui c'è il nudo che scende le scale di Duchamp. Sembra quasi una specie di contrappasso, perché Gleises è quello che non ha voluto Duchamp a Parigi. E' quello che fa questo signore. Adesso ce lo vediamo bene, come dipinge Gleises. Gleises non fa il nudo che discende le scale, ma un uomo molto più sensato, affacciato non al balcone, ma a un balcone, perché ovviamente abbiamo detto che tutto si giocava sull'articolo determinativo e indeterminativo. Quindi colori cubisti, tinte scure, figure immobile, molti punti di vista. Grande. Di fianco a lui, appunto, invece il dipinto di Duchamp. Completamente diverso. Quindi all'interno di questo setting, dove per quanto cubiste tutte le immagini sono riconoscibili, quella di Duchamp ci può anche un po' spiazzare. E' interessante perché il dipinto, se andiamo indietro a rivedercelo, nel ritaglio del giornale, il dipinto di Gleises è più grande, quello di Duchamp è più piccolo. Ma nel franco bollo Gleises non c'è. Verrebbe anche da dire gli sta bene, però risparmiamoci queste crudeltà postume. Questo abbiamo detto è la fine della pittura retinica. Cioè con quell'opera, Duchamp dimostra di avere perfettamente chiaro qual è la strada che la pittura sta prendendo intorno a lui e decide di fare un'altra strada in modo completamente nuovo. Quindi non c'è nessuna premessa che ci faccia capire che si sta arrivando a questo. Si torna di nuovo alla frase di Baudelaire, il pubblico rispetto al genio è un orologio che resta indietro, e qui noi che cosa abbiamo? Abbiamo il suo primo ready made, 1913. A Roma, in questo momento, c'è proprio una mostra dedicata al centenario di Duchamp. Ed è il centenario della ruota di bicicletta. Cioè se si deve decidere qual è la data a cui fare riferimento per celebrare Duchamp, al di là del fatto che forse quest'anno avevano spazio nel museo e magari tra sei anni non l'avrebbero avuto, però è la ruota di bicicletta. La ruota di bicicletta è un paradosso. È un paradosso, è uno simoro, ma più che altro è un paradosso logico, perché è una ruota, quindi un elemento mobile, su uno sgabello, che è un elemento legato per sua natura alla staticità. La ruota è un prodotto industriale e lo sgabello è un prodotto artigianale. La ruota è rotonda, la base dello sgabello è quadrata. Uno potrebbe dire, vabbè, e andando avanti, andando avanti il problema si complica. Perché? Perché il problema per Duchamp che cos'è? è il fatto che il nome di un oggetto non è l'anima dell'oggetto. Ovvero, una ruota di bicicletta, se anche io la trovo appoggiata al muro, io la vedo e dico, è una ruota di bicicletta. In realtà, ruota di bicicletta è una parola che definisce la funzione che ha questo oggetto nel momento in cui è legata a una bicicletta. nel momento in cui la ruota non è più legata a una bicicletta ed è appoggiata a un muro, la sua funzione non è più quella di essere una ruota di bicicletta. Quindi questa è uno dei primi pensieri che inizia a fare Duchamp. Il secondo è che questa ruota di bicicletta è la logica conseguenza dal nudo che scende le scale. Adesso che ci siamo riscaldati, la questione può iniziare a diventare insomma un po' più complicata da digerire. Perché? Perché il nudo che scende le scale non è convenzionale, abbiamo detto, il nudo sta fermo. Già un nudo in piedi sulle scale, uno non si capisce che cosa debba fare, in più un nudo che scende le scale. In questo modo invece l'artista che cosa fa? Mette sotto scacco la statuaria. Perché la ruota di bicicletta è una trasposizione attraverso questi oggetti del concetto di scultura. Una scultura che cos'è? È un oggetto tridimensionale creato da un artista che occupa lo spazio. La ruota di bicicletta è un oggetto tridimensionale creato da un artista che occupa lo spazio. La scultura, stiamo parlando ovviamente dei primi del Novecento, non dell'installazione o delle performance contemporanee, era fatta da una base e da una statua o da un'immagine. In questo caso noi abbiamo la base e abbiamo l'immagine. Perché lo sgabello vuole essere il piedistallo e la ruota vuole essere la scultura. L'altro tabù che si va a infrangere qual è? È il fatto che l'arte non si tocca. È un altro tabù. Di solito le opere non si toccano, tant'è che tuttora nei musei quando gli artisti vogliono che le opere vengano toccate o fruite si avvisa al personale di sala di incoraggiare i visitatori comunque a toccare o a prendere possesso dell'opera. Duchamp costruì questa ruota, la te veneva nel suo studio, la faceva girare e l'opera viene esposta solamente nel 1951. E fra l'altro quando viene esposta nel 1951 viene rifatta perché lui l'ha distrutta in un trasloco poi ne ha fatta un'altra e quindi viene replicata. Il fatto che venga replicata ci mette davanti a uno di quelli che sono stati i grandi tabù dell'arte contemporanea con la quale gli artisti si sono confrontati cioè il rapporto tra originale e riproduzione se ci pensiamo. che cos'è l'opera è l'unicum è l'oggetto creato dal talento e dal virtuosismo di un artista o è legato alla volontà. la riflessione più importante che Duchamp ci fa con quest'opera è quella che l'opera nasce dalla volontà dell'artista non ha niente a che vedere con il talento intendendo per talento la tecne la capacità manuale la capacità pittorica questo forse è uno dei grossi scogli che tra virgoletti i principianti e i perplessi hanno sempre avuto davanti cioè noi vediamo che anche quando ci si trova davanti un artista contemporaneo che fa delle cose molto strane una delle affermazioni che vengono più spontanee è sì è vero anche Picasso faceva delle cose strane però Picasso sapeva dipingere cioè ce l'aveva dimostrato è come dire ha avuto una specie di ISO 9000 un bollino blu una certificazione che siccome lui comunque sapeva tenere in mano la matita poi è autorizzato a fare quello che ha fatto dopo mentre Duchamp che comunque ci prova la stessa cosa che non ha nessun problema a dipingere come dipingono gli altri meglio o peggio a seconda dei gusti ma non ha nessun difetto dal punto di vista delle competenze tecniche ma quello che Duchamp dice è attenzione perché la pittura retinica non trasmette niente se non il piacere per la pelle dell'opera e la pelle dell'opera ci dice Duchamp non è l'opera certo magari la pelle dell'opera non può essere riproducibile ma se dietro non c'è niente come si fa e allora tutta l'arte dopo Duchamp dovrà fare i conti proprio con questa affermazione cioè l'arte in questo preciso momento è legata alla volontà dell'artista è quello il discrimine tra un oggetto artistico e un oggetto che non lo è se l'oggetto viene dall'invenzione dell'artista questo oggetto è un'opera diventa un'opera e adesso vedremo come può arrivare a diventare un'opera non è neanche un concetto particolarmente nuovo se andiamo un po' indietro nel tempo e pensiamo a un artista che comunque i principianti perplessi conoscono come Leon Battista Alberti Leon Battista Alberti progettava gli edifici e disertava i cantieri non ha mai seguito o quasi mai uno dei lavori che ha progettato Canova faceva creava questi gessi e poi erano gli allievi che lo riproducevano Raffaello aveva una bottega che assomigliava alla factory di Andy Warhol se ci pensiamo per cui non era poi magari era ecco il colpo di pennello messo alla fine o la firma la firma che soprattutto a partire dal settecento in poi diventa l'elemento sul quale si discute l'elemento che crea le quotazioni proprio perché il momento storico in cui si trova Duchamp a vivere in Francia è il momento che vede non tanto la nascita quanto la ferrovia è un'affermazione completa e totale del sistema dell'arte che inizia proprio a partire dagli impressionisti un sistema dell'arte in cui diventa un oggetto artistico degno di essere acquistato e importante tutto ciò che viene consacrato all'interno di una galleria come una specie di battesimo se si viene accettato in un luogo allora si è arte e questa riflessione per Duchamp è una riflessione non da poco perché se il nudo non fosse stato esposto alla Société des Indipendants in Francia e oltre a quello non si fosse mai mosso e non fosse andato in Francia la sua opera non sarebbe mai stata considerata tale sarebbe scomparsa dai libri dai testi e da qualsiasi tipo di riflessione abbiamo detto che lui lo replica ne fa diverse versioni infatti se voi cercate ruota di bicicletta di Duchamp su internet trovate varie forme di ruote di biciclette allora viene da chiedersi qual è l'originale la risposta è a Duchamp non interessa che ci sia un originale perché? perché se l'opera è la volontà dell'artista è la volontà quella che crea l'opera non il fatto che ci sia un originale infatti se noi ad esempio osserviamo c'è un ritratto di Duchamp proprio vicino alla ruota questa ruota di bicicletta che ha la staffa retta non è già più questa proprio perché lui ne autorizza tranquillamente il rifacimento che cosa accade? accade che se questa scelta che lui fa di accoppiare due oggetti presi dal mondo intorno a lui unirli e portarli in un museo quindi attraverso questi ingressi in un museo crearli o farli diventare diciamo così un oggetto su cui fare una riflessione artistica se la sua volontà e quindi la sua scelta si trasformi in opera d'arte questa profanazione dell'oggetto è inutile perché? perché avrebbe creato lo stesso tipo di oggetto contro il quale si sta scagliando lui si sta scagliando contro l'oggetto icona quello caratterizzato dall'unicità da questa presunzione del talento del genio dell'impossibilità della replica lui anzi vuole puntare l'attenzione sul fatto che ciò che differenzia una ruota di bicicletta dalla sua ruota di bicicletta è quello che lui chiamerà il pointing l'artista che addita addita un oggetto e lo sceglie tutto questo volendo ha una tradizione anche molto antica quello di scegliere e dare il nome alle cose in qualsiasi tradizione religiosa ma appunto il punto è non deve diventare un'opera perché se diventa un'opera diventa un feticcio e se diventa un feticcio la situazione è stata inutile invece proprio perché preserva la neutralità dell'oggetto l'indifferenza della ruota e dello sgabello riesce a far sì che l'opera sia il suo gesto l'opera di Duchamp è il suo gesto abbiamo detto vivono contemporaneamente Picasso e Duchamp ma le opere di Duchamp sono poco riprodotte perché persino il mondo della riproduzione ha compreso che non puoi riprodurre il gesto l'opera è una testimonianza un lascito un'applicazione di quello che è il gesto dell'artista allora potremmo fare un confronto con Picasso Picasso fa una testa di toro e Picasso dice ho trovato un manubrio e un selino da bicicletta li ho accostati ed è venuta fuori la testa di toro Picasso lo fa nel 42 quindi sono passati 30 anni dopodiché dice sarebbe interessante se un giorno questa mia opera si disfacesse se qualcuno trovando questi oggetti in una discarica dicesse oh che bello un selino una ruota di bicicletta e li usasse per la sua bicicletta in Picasso però solo apparentemente il percorso è simile perché non esiste un percorso diametralmente opposto a Duchamp Picasso auspica una doppia metamorfosi prelevo degli oggetti e do loro una nuova forma che però ha un senso cerco il figurativo cerco la testa di toro e poi questi due oggetti hanno una nuova metamorfosi e ritornano ad essere bicicletta Duchamp no Duchamp non unisce la ruota di bicicletta allo sgabello per creare un nuovo oggetto ma per dare voce a un gesto quindi in Picasso non c'è scusate in Duchamp questa diciamo così doppia metamorfosi non c'è l'arte in Duchamp è un atto di giudizio e quindi anche se sono due assemblage vediamo di nuovo che pur davanti all'unione di due oggetti diversi questi due artisti parlano due linguaggi diametralmente opposti ed arriviamo al 1917 tutti pazzi per la fontana e tuttora chi parla della fontana di Duchamp la chiama urinatoio il che fa capire che c'è proprio qualcosa che ha si potrebbe dire quasi craccato in tutto ciò che ha fatto Duchamp nel 1917 è già iniziata la guerra una guerra che adesso noi siamo abituati a considerare un po' insordina rispetto alla seconda guerra mondiale perché noi parliamo della seconda guerra mondiale e di solito la uniamo al discorso della Shoah e dimentichiamo che la prima guerra mondiale ha fatto 10 milioni di morti che non sono stati solo 10 milioni di morti ma sono stati anche milioni di invalidi che circolavano per le strade la mia generazione non è abituata a vedere invalidi di guerra per le strade ma all'epoca si vedevano proprio le persone su queste specie di tavolette con le ruote che si spingevano persone senza le braccia devastate appunto dai proiettili indifese davanti a tutto questo e Duchamp lo scrive dice da quando i generali non muoiono più a cavallo i pittori non sono più obbligati a morire davanti al cavalletto quindi dice attenzione sta cambiando tanto sta cambiando il modo di fare la guerra sta cambiando il modo di scrivere le poesie ma l'armè che dispone i versi sui testi di poesie quindi assolutamente no alla pittura di cavalletto e nel 1917 a questa società degli artisti indipendenti che viene creata in America lui presenta quest'opera anche qua la sua diciamo così scelta è stata molto raffinata lui era nella giuria presenta quest'opera facendola presentare un tale signor Muth potevano esporre tutti coloro che pagavano come voi stasera una cifra d'ingresso anche molto modica era di 6 dollari chiunque pagava 6 dollari poteva esporre il signor Muth presenta questa fontana si chiama fontana la firma abbiamo detto la firma fondamentale perché è il confine che ci segna l'opera R. Muth 1917 e la giuria non la espone di nuovo l'assenza dell'opera all'interno della mostra è l'elemento più importante della realizzazione dell'opera in un articolo su un giornale Duchamp che tutti sanno che è poi il signor Muth ma che aveva voluto assistere dall'interno del meccanismo al dibattito della giuria scrive proprio delle considerazioni su quello che si chiama The Richard Muth Case il caso del signor Muth sembra un po' un titolo tipo il caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde e dice essi dicono che ogni artista che paga 6 dollari può esporre Mr. Richard Muth ha proposto una fontana senza alcuna discussione questo oggetto è sparito e non fu mai esposto quali erano le ragioni per rifiutare la fontana del signor Muth uno alcuni lamentavano il fatto che fosse immorale e volgare due altri che era un plagio un normale pezzo di idraulica ora dice Duchamp la fontana di Mr. Muth non è immorale il che sarebbe assurdo non più di quanto lo sia una vasca da bagno è un impianto che si vede ogni giorno nelle vetrine degli idraulici non ha importanza se il signor Muth abbia fatto o meno la fontana con le sue mani egli l'ha scelta pointing è proprio il verbo inglese egli ha preso un articolo casuale della vita e lo ha collocato in modo tale che il suo significato utilitario è scomparso sotto un nuovo titolo e un punto di vista e ha creato un nuovo modo di pensare questo oggetto per quanto riguarda l'idraulica cioè l'idea del plagio anche questo è un assurdo le uniche opere d'arte che ci ha dato l'America sono le sue tubature e i suoi ponti molto caustico in tutto questo Duchamp ma in pochissime parole rispetto a tutti i paroloni dei critici d'arte ha detto non importa se l'ha fatto egli l'ha scelto ha preso un oggetto e gli ha dato una funzione completamente nuova e di nuovo abbiamo la differenza tra Duchamp e Picasso perché Duchamp dice qualsiasi cosa può trasformarsi in qualcosa di molto bello se il gesto si ripete con frequenza è per questo che il numero dei miei ready made lui dice è molto limitato perché non deve diventare bello non deve essere qualcosa che una persona guarda e dice che bella la fontana di Duchamp perché se no si cade di nuovo nell'equivoco dell'estetica ma è come è stata importante questa mossa parlo di mosse parlo di scacchi perché poi negli anni venti Duchamp apparentemente smette di fare arte e diventa uno dei campioni della nazionale di scacco francese di scacchi francese la fontana è importante perché ha io non entro oggi proprio perché è una presentazione insomma un po' di Duchamp nel merito di tutta la serie dei significati alchemici che poi hanno costellato il lavoro di Duchamp però dobbiamo pensare che normalmente l'orinatoio è un oggetto che accoglie mentre la fontana è qualcosa che espande messa in questo modo sembra un grembo materno erremut se lo leggiamo a rovescio da mutter che in tedesco significa madre quindi con quest'idea generativa ma rm che sono le iniziali potrebbe essere anche ready made sono tutte parole con cui Duchamp amava moltissimo giocare e quindi ci dice attenzione non è poi una scelta diciamo così così casuale il problema qual è è capire a questo punto che cosa significa un ready made e lui ce lo dice con questa frase del 1917 che pubblica e ci sollecita ci sono anche molti fumetti sulla vicenda di Duchamp a pensare che oltre al pointing c'è un altro elemento che costruisce l'opera d'arte l'ingresso in uno spazio artistico perché lo spazio artistico ci dice Duchamp è molto più importante del punto di vista del singolo perché è uno spazio di attraversamento uno spazio collettivo dove si crea una mentalità comune dove si crea un gusto allora se il mio oggetto entra in un luogo di questo tipo diventa un'opera è capitato a volte capitato durante un disallestimento che l'orinatoio la fontana scomparisse perché è considerato un pezzo dimenticato lì ma lui giustamente disse nel momento in cui la mostra non c'è più questo oggetto non può più essere considerato un'opera infatti di nuovo ne autorizzerà poi negli anni 60 delle repliche lui visse sempre in modo molto discreto e anche autonomo rispetto alle opere d'arte proprio perché sosteneva l'importanza del non lavorare con quest'idea dell'originalità in assoluto a tutti i costi e questo spiazzamento se vogliamo andare in un terreno completamente diverso noi lo possiamo ad esempio notare in questo dipinto del 1819 in cui si vedono i marmi del Partenone portati in questa temporary room noi siamo abituati ai temporary shop vengono portati in Inghilterra e si fa una temporary elgin room una stanza dedicata ai marmi del Partenone però uno deve pensare i marmi del Partenone prima che elgin li portasse via non erano poi così considerati il Partenone era diventato una polveriera aveva subito degli attacchi il Pasha aveva dato tutte queste autorizzazioni a questo aristocratico inglese a portarseli via ed è solo nel momento in cui vengono consacrati in un museo che inizia il dibattito sui marmi perché proprio è l'ingresso nel museo e non lo è solo nel 1900 vediamo che è una cosa antica che ha degli origini diciamo così molto più radicate nel tempo e si chiude come ci si chiude come prometteva il titolo con la Gioconda con i baffi la Gioconda con i baffi è una delle opere più emblematiche di Duchamp prima di tutto perché non è un dileggio ma è un omaggio nei confronti di Leonardo Duchamp aveva moltissime cose in comune con Leonardo il lavoro sulla figura androgina l'attenzione per la scienza e soprattutto il fatto che considerava e se andate a prendere i testi di Leonardo lo vedete il fatto che la pittura Leonardo lo diceva è una cosa mentale lo sosteneva Leonardo e lo risostiene Duchamp lo sosteneva anche Giotto perché tutti di sicuro si ricordano l'aneddoto legato alla O di Giotto l'emissario del Papa che gira per i pittori e vuole portare al Papa alla prova pittorica di quanto siano bravi questi artisti della Toscana Giotto a mano libera disegna un cerchio e gli dice porta questo al Papa e l'emissario cercava la cosa e invece ha avuto il concetto l'emissario del Papa voleva la tavola l'opera il bel dipinto e ha avuto invece l'idea delle competenze dell'artista certo non è che uno può dire ah che bello questo cerchio se uno vede un cerchio non ammira il cerchio ammira la regia la capacità mentale se voi andate a vedere il cenacolo non andate a vedere il cenacolo per la pittura di Leonardo perché il cenacolo è un fantasma non c'è più niente la tecnica di Leonardo era una tecnica disastrosa Leonardo era tutto tranne che un pittore dalle ottime tecniche era un grande sperimentatore in alcuni casi anche un po' pasticcione ma perché si va a vedere il cenacolo prima di tutto perché è diventato un'icona e ne parleremo con Warhol ma soprattutto per la regia perché Leonardo sceglie il punto in cui Cristo dice nel bel mezzo di una cena con gli amici e i discepoli qualcuno di voi mi tradirà ed è una frase che fa un po' il botto e nel momento in cui lui sta dicendo che sta per morire i discepoli si allontano da lui e lui resta nel nulla si va per vedere questo si va per vedere la regia e non per vedere in sé il materiale dell'opera e quindi lui fa un omaggio alla Gioconda apponendo barba e baffi e scrivendo sotto L-H-O-O-Q se lo leggiamo in inglese o in americano visto che aveva tutta questa frequentazione con gli States è look che vuol dire guarda se facciamo lo spelling in francese viene è la chodo che vuol dire lei ha caldo al culo letteralmente non sono bisogna essere filologici che sembra suggerire una ragione per cui sorride ma in realtà non è una frase volgare perché appunto avendo Duchamp questi legami molto forti con l'alchimia si rifaceva proprio a una delle figure dei trattati di alchimia in cui c'era questo fuoco sacro della conoscenza sotto le terga di una figura femminile perché era proprio il sacro fuoco alchemico che è posizionato sotto perché però la Gioconda e anche qua la relazione è con un'assenza è con un'assenza perché la Gioconda era diventata famosissima per essere stata rapita Gioconda portata via da un italiano all'ouvre convinto che fosse stata rubata dai francesi e questo se la tiene in casa per due anni e poi finalmente ricompare appunto grazie alla sua ingenuità nel 1913 per cui un'opera esposta ma fino a quel momento la Gioconda non era famosa cioè era un'opera molto delito i grandi studiosi di Leonardo andavano a guardare anche la Gioconda ma è una delle opere minori in assoluto di Leonardo la Gioconda infatti secondo me all'ouvre le hanno allestite così bene perché c'è la Gioconda e vicino c'è la Vergine delle Rocce così tutti i turisti fanno calca la Gioconda e si riesce a vedere bene la Vergine delle Rocce che è più rappresentativa ci racconta molto di più dello stile di Leonardo che non questa cosa messa sotto sotto vetro però non era famosa quindi di nuovo la riflessione è che cosa crea la fama della Gioconda se fosse stata la sua qualità l'avrebbe avuta fin da subito invece quest'idea appunto di feticcio di fama di individualità dell'essere che è al di sopra di qualsiasi persona e e lui si scaglia contro così come si scaglia contro questa piacevolezza della pittura retinica si scaglia contro quest'idea dell'artista assoluto come genio come persona assolutamente fuori dal coro ed è uno l'artista che inaugura la body art il lavoro su se stesso ha una si traveste da donna e prende il nome di rose se la vi che però in francese vuole anche dire rosea e la vita e nel 1919 quindi meno male stesso anno si fa una tonsura a forma di stella sul capo e la tonsura è quell'elemento nei religiosi che dimostra il disprezzo per il mondo mentre la stella a cinque punte lavora sull'illuminazione la chiama lui stesso tonsura cioè gioca su se stesso gioca sull'immagine che può dare ci gioca assolutamente fino alla fine facendo anche appunto del suo corpo un teatro dell'avvenimento artistico rimane la fotografia alla quale ovviamente il mondo dell'arte ha dato un valore ma di nuovo ha creato qualcosa che il tempo poi cancella è un oggetto effimero e questa sua idea dell'importanza del pensiero gli farà creare in una fantastica valigia di Louis Vuitton questa boate en valise cioè una raccolta di miniature di 70 sue opere 70 tra opere scritti appunti manoscritti che documentano la genesi dei suoi lavori allora la gioconda con i baffi il nudo che scende le scale il grande vetro la macinatrice di cioccolato lavori di quando era più giovane la porta che si apre su due ambienti contemporaneamente come se fosse quasi un rappresentante che va in giro a mostrare il suo lavoro però non è non bisogna leggere questo non so come dire come se fosse un'ironia ma anzi è il corollario di tutta la sua affermazione cioè non è stato il mettere i baffi alla gioconda o la mia immagine con la gioconda con i baffi che deve diventare opera ma il fatto che io in questo modo più che oltraggiare un'immagine come hanno pensato i più ho voluto invece omaggiare un'immagine lavorare su un'immagine che è considerata importantissima nella storia dell'arte e mettendo i baffi alla barba dimostrare al pubblico che poi dovrà confrontarsi con queste immagini quanto poco sanno della gioconda tutti la conoscono ma nessuno cioè nessuno il 90% delle persone che conosce la gioconda penso di poter dire non sa esattamente in che data è stata fatta la maggior parte delle persone che sanno in che data è stata fatta è convinta che l'abbia rubata a Napoleone poi c'è chi è convinto che sia l'autoritratto di Leonardo poi c'è tutta la mitologia creata da Dan Brown ma il punto quello che sembra dirci Duchamp è chi ha il coraggio di andare oltre la pelle del capolavoro e interrogarsi su che cosa ci sta dietro e allora forse toccarlo intervenire oltre a essere un omaggio al discorso dell'androgeno portato avanti da Leonardo al discorso della pittura mentale vuole essere un po' una sorta di trappola per topi cioè mettere di nuovo sotto scacco lo spettatore e chiedergli quanto veramente sa di un'opera nel momento in cui contesta tutto questo e allora è di nuovo il gesto e se è il gesto e il gesto è immateriale io posso portare le riproduzioni in valigia ogni riproduzione è la testimonianza di un gesto perché come abbiamo detto prima se il gesto creava poi l'opera e il capolavoro non riproducibile il serpente si sarebbe morsicato la coda avrebbe di nuovo creato un oggetto artistico invece di stimolare a una nuova riflessione su che cosa poteva voler significare fare arte artista fino alla fine abbiamo detto abbandonerà l'arte diventerà famosissimo scacchista si scoprirà poi dopo morto che negli ultimi vent'anni aveva lavorato a un'opera molto complessa e molto significativa nella sua tomba ci fu inciso la scritta che lui stesso aveva richiesto dimettere cioè alla fine sono sempre gli altri che muoiono che da un lato sembra appunto una non considerazione della morte o una battuta ma in realtà che cosa sopravvive alla morte di Duchamp il gesto non è importante che sopravviva un oggetto materiale e quindi in effetti sono sempre gli altri che muoiono Glyse di cui magari molta meno gente sa qualche cosa ci servirà quello che abbiamo detto oggi quando la prossima volta andremo a parlare di Andy Warhol perché anche Andy Warhol avrà moltissimi innanzitutto punti di contatto con Duchamp conosce Duchamp e fa un film su Duchamp ma lo vedremo la prossima volta e anche per Warhol la Mona Lisa diventa una specie di cartina di tornasole per raccontare la propria poetica grazie io sono disponibile se ci sono domande non so se sono stata